Grazie mille, grazie a tutti per l'affetto e il calore che mi fanno sentire ogni giorno. Sono onorato e orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo con questa maglia. Ormai mi sento a casa, ho sposato questo progetto, quindi spero di farne altre tante. Sette anni, non sono mancate tante gioie, tante soddisfazioni, ma non sono mancati momenti un po' più critici? Sicuramente, io sono arrivato forse nel momento più basso della Gelbison con un play-out a Leonforte e poi da lì siamo sempre cresciuti, anche passo dopo passo, fino ad arrivare all'anno scorso dove abbiamo fatto il record dei punti, play-off, finale play-off e quest'anno stiamo andando veramente bene. Questo momento è arrivato poi in una giornata davvero straordinaria, una bella vittoria con tanti significati. Sì, sì, era importante vincere e dare continuità anche in vista della partita che andiamo ad affrontare domenica a Cava in un momento particolare, con un vantaggio di cinque punti, è importante. Ci voleva una vittoria per dare un segnale forte all'avversario e a noi stessi. A chi dedichi questo momento? Dedico questo momento a me stesso, in primis alla mia famiglia che mi è sempre vicina anche da lontano perché io comunque sto qua, stando qua con la mia ragazza, lo dedico e ringrazio al Presidente, a tutta la società, ai tifosi che mi fanno sentire veramente a casa dal primo giorno e ai miei compagni di squadra.